Il lutto di Alba Parietti? Addio alla cara amica Chiara Viapiana Alba Parietti è stata colpita da un tragico lutto, rendendo omaggio alla sua grande amica Chiara Viapiana, scomparsa prematuramente. La conduttrice ha espresso il suo dolore attraverso un toccante post su Instagram, rivelando il legame profondo che le univa Alba Parietti. Il tributo a Chiara Viapiana. In un sentito post su Instagram, Alba Parietti ha voluto ricordare Chiara Viapiana, amica di lunga data Questa perdita improvvisa ha colpito duramente la conduttrice, che ha voluto dedicare parole emozionanti per la sua cara amica Chiara, non sembra vero, sempre si prova a cercare un senso, ma davvero non c'è Mentre ti scrivo, sento il suono della tua voce, quel modo scherzoso, buffo ironico che avevi sempre di interpretare la vita, come se nulla potesse scalfirti Era impossibile levarti il sorriso, anche se alle volte pensavo fosse amaro Tu non volevi mai pesare sugli altri, non ricordo di averti visto mostrare tristezza Era la tua forza e la tua debolezza. L'imperturbabilità, tu eri la cura, ha scritto Alba Parietti nel post Parietti ha aggiunto Tu sei legata a tante cose, a tutta la mia vita a Bologna e quando amici che come te, come Massimo, Sandro, prima di te se ne sono andati, sai che nulla sarà comunque mai più come prima E così sarà con te, nulla mai più come prima Sai Chiara, eri proprio bella e penso di non avertelo mai detto Eri una madre eccezionale per i tuoi meravigliosi ragazzi Un'amica preziosa un punto di riferimento per tantissimi amici che ti rimpiangeranno e che ti hanno amato e apprezzato tantissimo, come meritavi Questo messaggio dimostra il profondo legame tra le due amiche, un legame che Alba Parietti porterà sempre con sé Il dolore incolmabile di Alba Parietti, sotto al lungo post, accolto con migliaia di, mi piace, e numerosi commenti di supporto, Alba Parietti ha concluso con un dolce saluto Sei stata una donna superiore e ti vorrei poter abbracciare, salutare e dirti che ti ho voluto bene Ciao Chiara, fai buon viaggio Nonostante le parole forti e cariche di emozione, Alba Parietti non ha rivelato le cause della morte dell'amica amata